Il nostro futuro passa dal nostro presente e quindi noi stiamo concentrati su ciò che è oggi, su quello che sarà la nostra partita di Olbia e così via. Niente futuro allora, solo presente. Quello che il Teramo ha bisogno abbia prima possibile, le sembianze di 41-42 punti per ottenere il traguardo della salvezza. Questo è un gruppo che non ha mai mollato, nel senso che quando ha ricevuto un grosso cazzotto in faccia ha poi sempre reagito, questo è stato un tema, una costante. Ora il nostro obiettivo era quello di trovare continuità a prescindere se le cose andavano bene o male. Anche se, e dal presente si torna al passato, nel chiuso dello spogliatoio il diavolo nel momento più critico della stagione, si era ripromesso di arrivare ad una quota un po' più su. Ora che di tempo ne è passato, quel patto non è più un segreto. Quella chiacchierata famosa che facemmo dentro gli spogliatoi, io solo insieme a ragazzi. I ragazzi si sono dati come un obiettivo, ma risale a dicembre. Quando all'epoca avevamo 19 punti in classifica, il gruppo si dette come punto di arrivo, obiettivo 45 punti. E' chiaro che poi il nostro obiettivo è la salvezza e cercheremo di raggiungere quello che dentro al chiuso della porta dello spogliatoio ci siamo prefissati, consapevoli del fatto che il nostro obiettivo poi è chiaro è la salvezza. Se poi raggiungeremo i 45 punti o di più o meno, però noi dobbiamo raggiungere la salvezza. Vincere ancora, stavolta provando a farlo ad Olbia. E provando anche a dare quella continuità difensiva che è stata l'anticamera delle vittorie, 5 nel girone di ritorno, unico Elisir per tirarsi fuori dalle sabbie mobili dei play-out. Se noi andiamo avanti con quella che è la nostra filosofia, la nostra mentalità, vincere due partite e perderne tre vuol dire fare più punti di una che fa cinque pareggi. E quindi ci salviamo. E questa è stata anche la nostra mentalità. A volte abbiamo rischiato di perdere, però abbiamo vinto anche di più degli altri. Non ci sarà pinto semaforo verde invece per Aziosmanovic, Bernardotto e Soprano, in mezzo a Rigoni e Onnipresente, mentre sugli altri c'è ancora da scegliere, vista l'abbondanza e i pochi slot a disposizione. In tanti meriterebbero di scendere in campo. E il fatto di essere passati con due centrocampisti, è chiaro che ho penalizzato, avendone nuove, ho penalizzato Forgione, ho penalizzato Viero, ho penalizzato De Grazia, ho penalizzato Papa Serio, o Rossetti o Fiorani. Non cito a Rigoni perché è chiaro che è il nostro capitano, è il nostro leader e quindi è quello che gioca praticamente, tra virgolette, sempre. Però è un sistema che, avendo tanti centrocampisti, qualcuno è per forza di cose penalizzato. L'obiettivo è chiaro, giocare col DNA consueto, ma mettendoci dentro, quel pizzico di razionalità che serve per capire che adesso ogni errore potrebbe costare doppio. Cioè, io non ho mai visto una squadra che ha come obiettivo la salvezza di vincere un campionato. L'importante è arrivare all'obiettivo, poi il come lo discutiamo, analizziamo, è anche piacevole perché poi si migliora, sono punti di vista, che non c'è la scienza esasta, perché sennò tutti faremmo la stessa cosa.